Sì, sono veramente felice di questa settima vittoria della mia carriera, era un sogno quando ho iniziato la carriera. Oggi veramente la squadra è stata perfetta, non mi aspettavo di vincere subito, sapevo di stare bene, però in tanti volevano vincere oggi. La squadra è stata perfetta anche grazie a loro che ce l'ho fatta. Sì, in questo momento Valerio si era già spostato, io sono rimasto con il ragazzo della Big Step Sagan, ho fatto una grandissima volata e veramente è stata una grandissima emozione dopo l'arrivo. Sì, era un arrivo non semplice, però avevo timore che i velocisti tenessero e niente, proprio per questo Conti ha fatto un grandissimo lavoro per mettere fatica nelle gambe a loro e solamente così potevamo vincere e l'abbiamo fatto.